Oh, le locomotive si sbagliano! Non dovresti ascoltare le vicerie, Thomas! Questo signore deve costruire un nuovo campo giochi per i bambini e dall'alto è più facile cercare un posto adatto! E oltretutto, aggiunse il visitatore speciale, la sabbia del tunnel sarà ideale per il campo giochi e pensare che l'abbiamo trovata per caso! Ogni tanto, Paolo ne gonfiato sorvola ancora l'isola con Harold. Ora però, le locomotive sanno che l'elicottero non è lì per spiarle, ma solo per rendersi utile anche lui! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS